Bene amici, Black Friday si sta avvicinando a passi da gigante, sarà venerdì prossimo il 23 ed è sostanzialmente una giornata in cui un sacco di negozi online e offline fanno un sacco di offerte. Ma attenzione, occhi aperti perché a volte le offerte possono anche non essere offerte, allora vi do qualche dritta per seguirle tutte, non perdervene nemmeno una e non rimanere fregati. Prima di tutto sul blog andreagaleazzi.com, spesso ce lo dimentichiamo perché io amo fare i video più che scrivere, ma farò un live dove segnalerò in tempo reale tutte le offerte che escono, adesso non è ancora online questa paginetta, sarà online penso mercoledì o giovedì. Comunque tutte le offerte che escono principalmente su Amazon ma anche su altri negozi si sono interessanti e poi altro canale Telegram, quindi offerte che vi arrivano in push, non preoccupatevi potete silenziare le notifiche, non vi rompiamo le scatole, molte le mandiamo silenziose per andare a anche qua vedere tutte le offerte. Questo è un canale che c'è ormai da qualche anno, mi piace segnalare laddove ci sono degli affari da fare, quindi canale Telegram, offerte.tech, cercatelo a questo logo e poi la partnership con Pagomeno.it che quest'anno ho messo in campo un sacco di forze. Perché questa partnership? Vi faccio vedere tra l'altro dov'è questa partnership sul mio blog, tra l'altro Pagomeno.it è questo il sito web ma poi ve ne parlo, perché se vado sul mio sito c'è il link al mercatino, mercatino.tech, dove lo sapete perché l'ho creato, perché io ho iniziato a fare recensioni proprio comprando e vendendo telefoni usati perché non avevo budget, non avevo soldi, quando ero più giovane facevo lo studente, quindi con un budget iniziale riuscivo a comprare usato, vendere usato, non perderci. Allora per mettere in link domande e offerte ho fatto proprio questo mercatino assolutamente amatoriale e per esempio guardate vado ad un annuncio pubblicato il 15 di un OnePlus 3T a 220 euro, qua sotto Pagomeno integra uno dei suoi cavalli di battaglia ovvero l'andamento del prezzo. Vedete qua c'è un grafico che vi dice da quando è uscito all'attualità come sta andando il prezzo e poi sotto vabbè prodotti correlati su Pagomeno dove si può andare a acquistare anche il nuovo da dove non si trovi uno smartphone usato. Ci ho detto, vi faccio vedere come funziona Pagomeno.it perché anche altre funzionalità veramente molto interessanti. Prima di tutto mi sono segnato qua un po' di robe, non più solo tecnologia perché se andate nelle categorie tra l'altro c'è l'applicazione per smartphone, vedete io sto utilizzando proprio l'applicazione sullo smartphone, telefono e GPS che è un po' il cavallo di battaglia mio, informatica, casa e giardino, audio e video, spot tempo libero, giochi e console, foto e videocamere. Videocamere ovviamente queste categorie le possiamo trovare anche sul sito web ma la cosa bella è che va a comparare non solo un negozio ma una moltiplicità di negozi. Quindi se stiamo cercando un prodotto e un'offerta lì abbiamo proprio una visione generale. E poi le altre funzioni interessanti sono la scansione dei codici a barre cliccando qua sulla fotocamera, magari siamo in un negozio vogliamo vedere quanto costa online quel prodotto, schiacciamo e si fa, oppure la ricerca vocale iPad Pro 2018. Come vedete lui mi cerca iPad Pro 2018, l'ha trovato da 12 o da 11 pollici e qua sotto vedete ci sono tutti i negozi dove si può andare ad acquistare. Non solo, guardate questo pulsantino attiva avviso, se si mette l'indirizzo di posta elettronica o ci si registra, si può ricevere una notifica push o una mail quando il prezzo di quel prodotto scende e questa è una cosa che ritengo veramente interessante. Poi ci sono un sacco di filtri per cercare i prodotti, per esempio se io vado su ricerca, andiamo un attimo qua, no, andiamo qua nelle categorie Black Friday, io sto cercando, anzi no, telefoni GPS, sto cercando che ne so, un telefono cellulare, qua posso andare a filtrare per dimensioni dello schermo, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pollici, quello che volete, sistema operativo, risoluzione dello schermo, colore, 4G, 3G, insomma posso andare a filtrarlo, poi magari noi siamo un po' nero quindi questa cosa qua ci serve poco, ma per esempio per altre categorie che so io potrebbero essere anche, andiamo alla home, volevo vedere la sport e tempo libero, che ne so, biciclette, accessori, ecco forse sulle biciclette un filtrino a me torna utile, per esempio strada, cruiser, BMX, dimensioni delle ruote, uomo ragazzo, marchio, insomma ha un senso questo filtro e poi quello che vi dico prima, il grafico dell'andamento dei prezzi, torniamo sui telefoni, telefoni cellulari, ne prendo uno a caso, iPhone 10 da 64 GB, guardate, se clicco qua ho proprio l'andamento del prezzo, così che se nel Black Friday ho quel prezzo civetta, posso con questo grafico capire se effettivamente, perché c'è anche lo storico del prezzo, se è stato abbassato per il Black Friday oppure no, tra l'altro vengono comparati veramente un sacco di negozi, centinaia di negozi, c'è anche Amazon, quindi lo fette Black Friday, Amazon atterreranno anche qua e le potrete cercare, oltretutto vedete nei negozi di fianco al prezzo, in alcuni c'è una spunta verde, in altri no, cosa vuol dire? Che tutti i negozi, mi hanno detto in pago meno, vengono verificati sul discorso esistenza, c'è la partita IVA, corrisponde la sede legale con la partita IVA, magari vanno a vedere anche, che ne so, Street View, se ci esiste veramente, ma mi hanno detto che comunque i negozi con la spunta verde hanno un boost di controllo, quindi sono ancora più controllati. E poi se torniamo alla home, vedete nelle categorie c'è già il bollino sul Black Friday 2018, perché è già iniziato, diciamocelo, tra l'altro anche sul sito web, basta cliccare qua, e già qua c'è una selezione delle migliori offerte proprio relative al Black Friday. Fuori dal Black Friday c'è anche la, diciamo, c'è il filtro sulle offerte del giorno, come mai non lo trovo qua nel sito web, non lo so, comunque sicuramente qua sul sito mobile c'è, e insomma, che dirvi, questa non è istigazione a comprare, attenzione, comprate consapevolmente, ma altrettanto consapevolmente, eh, informatevi se sono fregature o meno. E chissà che tra qualche giorno arriverà anche un unboxing di qualche prodotto in anteprima. Ho detto Amazon? No, io non l'ho detto, eh. Ciao!